Possibilità di quarantena tra le mura domestiche per tutti i cani catturati dal 27 giugno al 13 agosto durante il periodo di validità dell'ordinanza Lissavirus nel comune di Arezzo, al momento in isolamento al canile municipale di Via della Cella. Sul futuro dei cani, 7 in tutto attualmente, deciderà infatti il servizio veterinario dell'Asla, che dopo aver valutato caso per caso potrà consentire di continuare il periodo di vigilanza al proprio domicilio. A renderlo noto è l'azienda sanitaria, il periodo di osservazione durerà comunque sei mesi. Le richieste che arriveranno al sindaco di completare il periodo di osservazione veterinaria presso le abitazioni dei proprietari anziché al canile saranno, su richiesta dello stesso comune, prese in considerazione singolarmente dal servizio veterinario dell'Asla in modo da accertare se ricorrano le condizioni di sicurezza per il cane, per gli altri animali eventualmente conviventi e per gli stessi proprietari. Sarà valutato anche il periodo nel quale i cani sono stati vaganti e quindi non sottoposti a controllo da parte dei proprietari ed infine le motivazioni per cui si sono potuti allontanare in modo da stabilire che le stesse non si possano ripetere. L'Asla raccomanda comunque a tutti i proprietari di cani e gatti un'attenta conduzione dei propri animali in modo da evitare eventuali fughe oltre alla pronta segnalazione al proprio veterinario se dovesse insorgere qualsiasi sintomo che possa far sospettare l'inizio della malattia. Tra quelli più ricorrenti, il cambiamento d'indole, la tendenza a mordere, le manifestazioni di paralisi e l'impossibilità alla deglutizione. Proseguono infine gli accertamenti sulle popolazioni di pepistrelli presenti nel territorio comunale Aretino da parte del centro di referenza dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie per una valutazione epidemiologica del caso.